ragazzi un video molto veloce perché voglio chiarire alcune cose negli ultimi giorni ho notato che c'è stata proprio una massa di utenti che è venuta in qualche modo a criticare il mio ultimo contenuto la mia parodia di aldo giovanni giacomo con il film di space jam e queste critiche diciamo insomma mi hanno tacciato di essere un copione e di aver preso ispirazione dallo youtuber stefano baglio che saluto allora io voglio chiarire non ho nulla non devo dimostrare nulla a nessuno nel senso che i miei video sono pubblici ci sono le date ovviamente di pubblicazione e non è il primo video di aldo giovanni giacomo che pubblico credo sia la prima volta forse da quando escono i trailer cinematografici che pubblico una parodia dopo al stefano stefano baglio e non per questo significa che io abbia copiato da stefano baglio chiariamo una cosa questo questo video questo contenuto io lo tenevo in programmazione già ad aprile quando uscì il trailer di space jam come prova c'è un post in community che avevo pubblicato dove annunciava appunto la lavorazione del del contenuto proprio il giorno dopo che uscì la parodia o il giorno stesso il giorno dopo che uscirà il trailer di space jam quindi ad aprile ovviamente dato che per chi mi conosce per chi mi sa e per chi mi segue ho avuto tre mesi tre mesi e mezzo di restrizioni quindi con il canale che rischiava di essere chiuso ho dovuto bloccare quindi posticipare tutte le pubblicazioni dei contenuti dato che lavoro con video che spesse volte rischiano il copyright ovviamente non potevo permettermi di ecco di farmi cancellare il canale e quindi ho atteso e ho posticipato anche questo video di al giovane giacomo di space jam ovviamente l'ho fatto uscire a dicembre perché non lo avevo completato l'ho completato qualche giorno prima della pubblicazione anche perché poi ho dato priorità ad altri video e ad altri contenuti non a caso è riuscito anche nel frattempo la il trailer di batman dove ho lavorato poi al trailer di batman sempre con aldo giovane giacomo e quindi semplicemente semplicemente questo mi ha dato molto fastidio perché per chi mi sa conosce l'impegno che ci metto il sacrificio che metto nella realizzazione di questi contenuti ovviamente io non realizzo solo video su giovane giacomo il mio portfolio è molto vasto e molto ampio realizzato tante cose quindi per questo ripeto non devo dimostrare nulla di particolare a nessuno i miei video parlano da soli e quindi chiariamo non voglio pensare che sia una cosa premeditata questa di venirmi ad attaccare tra l'altro messi a paragone il video del di stefano con il mio video sono completamente diversi quindi anche se si vuole trovare qualche analogia qualche similitudine i paragoni non si possono fare perché sono completamente diversi e quindi ritornando a noi prima di scrivere determinate cose perché poi noto che in alcuni commenti c'è proprio quella saccenza quella presunzione del sapere prima di scrivere certe cose bisogna che ci si informi sul 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 canale sul sul creator che si va ad attaccare altrimenti diventa troppo semplice troppo facile poi scrivere certe cose ci vediamo alla prossima aspetto anche un feedback da parte di tutti voi magari qualche commento per capire anche come la pensate e buon fine settimana alla prossima ciao ciao Grazie.